Credo che porterà ottimamente per il nostro paese. Di fatto è uno strumento di libertà. È appena terminato il Consiglio dei Ministri a Palazzuchigi, il Green Pass al lavoro è legge. Ma nel coro favorevole della politica c'è anche qualche voce stonata. Che vi dico? Non so se dal governo dovrete rispettare il mio entusiasmo. Personalmente sul ricatto lavorativo non ci sta. Ci fermiamo prima dell'obbligo vaccinale sapendo che l'obbligo vaccinale comporterebbe un'ulteriore polarizzazione delle posizioni in campo. Alla conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri due le assenze pesanti. Quella del Premier Mario Draghi e quella del Ministro leghista Giancarlo Giorgetti. Questo provvedimento ha secondo me un ampio consenso. Ma quello che più è importante è stato votato all'unanimità in Consiglio dei Ministri. Nel pomeriggio, mentre il Ministro Giorgetti firmava il Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre, il segretario della Lega Salvini, impegnato nella campagna elettorale per le amministrative, cannoneggiava il provvedimento. Però diritto a salute e diritto al lavoro vuol dire anche garantire dei tamponi gratuiti. Le due leghe sono il sogno dei nostri avversari. Noi continuiamo a lasciarli sognare. Salvini dovrebbe avere davanti il pallottoliero con il 90% che entro due mesi sarà vaccinato, rincorrere e spartirsi con gli altri il 10% dei Novax e quantomeno un calcolo matematico ed elettorale infelice. Ma Draghi non chiederà il Green Pass solo ai comuni lavoratori. Il governo infatti invita anche i componenti di Camera e Senato ad adeguarsi alla norma. E' quantomeno il rituale che ci sia il governo che impone a un organo autonomo come la Camera, ma anche il Presidente della Repubblica e la Consulta, di fare una roba che ha deciso lui.